Nicolo Carretta, consigliere comunale per la lista Gloria Bergamo ed è promotore del Comitato per il Sì. Le tre ragioni per votare sì al prossimo referendum? Allora, il 4 dicembre credo che sia molto importante votare sì al referendum costituzionale, essenzialmente per un unico grande motivo, ossia che votando sì si permette finalmente all'Italia di diventare una democrazia più moderna, più al passo coi nostri tempi e più europea. Infatti credo che il punto centrale della riforma, ossia il superamento del bicameralismo paritario, finalmente permetta alla nostra classe politica di non avere più scuse per portare avanti i propri programmi elettorali e per fare le riforme di cui il Paese ha estremo bisogno. Infatti, molto semplicemente, se si vota no si tiene l'attuale sistema, ossia una legge potenzialmente può essere rimpallata tra Camera e Senato all'infinito. Invece, votando sì, si introdurrà un meccanismo per cui le leggi avranno dei tempi di approvazione più rapidi. E questo non è solo una questione di velocità, ma è anche una questione di qualità delle leggi. Infatti, con l'attuale sistema, l'Italia è famosa nel mondo per avere leggi purtroppo di bassa qualità. Ci sono altri due punti molto importanti di questa riforma. Il primo è il superamento della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ossia, molto anche qui semplicemente, si supera il sistema introdotto nel 2001 di legislazione di alcune materie anche molto importanti su cui sia lo Stato che le Regioni possono dirla loro. Invece, votando sì, si dà una distinzione più precisa, cioè ci sono delle materie che saranno solo di competenza statale e alcune materie che saranno solo di competenza delle Regioni, evitando che la Corte Costituzionale, come negli ultimi anni, lavori solo per dirimere i conflitti tra Stato e Regioni. Questo è un punto molto importante, non solo per, diciamo, semplicità anche del nostro sistema legislativo, ma anche perché si andranno ad eliminare molti costi indiretti dovuti al conflitto tra Stato e Regioni, soprattutto in ambito di energia o di, ad esempio, politiche del turismo. Il terzo e ultimo motivo molto importante, secondo me, è che si introducono degli strumenti che rafforzano la democrazia partecipativa, ossia si introduce in Costituzione il principio di referendum consultivo, si abbassa il quorum per le firme per i referendum abrogativi e quindi, ad esempio, l'ultimo referendum, cosiddetto Trivelle, sarebbe passato e, infine, si rende obbligatoria la discussione delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento. Ad oggi, dalla nascita della Costituzione a oggi, nessuna legge di iniziativa popolare è stata approvata dal Parlamento. Tutti questi motivi insieme credo che ci debbano portare con sufficiente, diciamo, senso di responsabilità e di fiducia nel futuro a votare sì, perché è un grande passo avanti per rendere l'Italia un paese più stabile e anche più accogliente verso le nuove generazioni che si meritano una democrazia diversa.